Siamo appena arrivati a Fico e siamo qui per il weekend più noccioloso d'Italia. Vogliamo che voi possiate assaggiare la nocciola in tutti i modi e quindi salata, dolce e degustarla. Imparare a degustarla è la cosa più interessante che potrete fare qui a Fico, ma soprattutto c'è una sorpresa. Eccoci, ti ho portato la crema Gianduia. Potrete votarla in questi giorni e domenica eleggiamo la migliore sparmabile d'Italia. Buona giornata con Fico e con Nocciola Day.